Il sal di nostro interesse è che è il nostro sostegno che avemo in gran convegno a scuove grave e le nostre figge brave mandiamo la dottrina e mi atti qua per guinga, sui monti facendo i nostri conti e ci con interessa e ho lento in pude messa, fa i pieti gosci non bisogna essere goffi, ma stare ben attenti aspettare che vengono i tempi, aneggia e schissa quando la guasa è messa, la gente non che pensa e lo ha il proprio tempo, fa i pieti e senti quei quei che conosco già che è a turno e aneggia tutto il giorno, che fortuna e anche l'ucceo di lunga, le sei e le mattina il campo da posina, pensa orale e dopo poi le tagge queste nostre cravetin e fa dei formaggi e dai rebolunga e sempre siamo dati l'insegno d'Obaldino e quododria e sempre siamo dati che i suon tra i freri fiei un ciuchelatro un ciuchelatro le caprette